www.mesmerism.info 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 Fandri, stabilizza e poi colpisci, stabilizza e colpisci, passa bene quella posizione. Sei a mezza, sei a mezza, vai, stabilizza e colpisci, ripeto con le braccia, vai, cerca di passare, libera le braccia e colpisci, passo alto, passo alto, andrea, controllo delle spalle e colpisci, controllo delle spalle e colpisci, vai, controllo delle mie vai, colpisci, colpisci, colpisci e passa, vai, un minuto Andrea, controllo delle spalle, passo alto, passo alto e colpisci, vai, passo alto Andrea, così, vai, passo alto, un minuto alle spalle, controllo, 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 controllo e colpisci, passa, passa subito, passalo, non lo devi lanciare, controllo la posizione e monta, montalo bene, montalo bene, ci mancano 20 secondi, andate, tienilo, vai, tra subito e passalo, passalo, giralo, 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 alza le gambe e passa la spalle. Perfetto, pronto, vai! Anche la cattola, e di l'azione, che ti dai calzi, vai a più, 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 stabilizza, stabilizza, non lo devi aspettare di passare, stabilizza bene, stabilizza bene, Vai, cerca di passare, vai che tumo, vai, passa, ginocchio sulla pancia, vai, passa stretto, passa stretto, passa stretto, non fai via con la gamba, passa stretto, vai, stabilizza la monta, stabilizza, 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 e poi grande in pound, stabilizza e grande che vado, vai ora, vai ora, vai, la posizione, senta all'altra parte, tira bene, tira, 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 sento, perfetto, martello, martello a destra, bravo, forza, con mani, esci dalla sotto, esci dalla sotto, spostano un po' dalla gabbia, spostano un po', fai ponte sulla gabbia, girati, andrei, girati, vai, vai, ponte, 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 vai, Vai, c'è il triangolo in braccia, c'è il triangolo in braccia, non lo fai saltare. Divinati la guardia, Andrè. Vai, sta a metà, divinati la guardia. Voli da terra e gira, ma gira, gira, gira. Ti corti, ti corti. Andrè, vai! Vai, Andrè, bravo! Proietta, 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 proietta! Marzia! Andrè! Liberati, liberati! Colpisci, vai! Instabilizza la posizione, come la massa monta. Vai, metto un corpo e passa. Stretto, vai, alza e colpisci, alza e colpisci, sta finuto. Colpisci, ora! Vai così, vai così, vai così. Instabilizza bene per la monta. Vai! Scirica, sopra! Andrè, tu ce l'hai, controlla! Vai! Di nuovo, ginocchio sulla pancia e passa. Vai, ginocchio sulla pancia e passa. C'è 30 secondi, vai, grande e bando. Stabilizza, postura e grande e bando. Metti i colpi, Andrè. Vai! Vantiglio! Spanna! Sì! Sciric焼! Sciric lucere! Pronto? Pronto? Vai! Prendi bene! Prendi bene, prendi bene! Passa con il braccio! Passa con il braccio! Poi passa con il braccio! Vai così! Trappo forte! Vai così! Buona penata! Vai! Tira! Tira! Esci! 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 Non metti i paletti! Guarda! Prendi bene un braccio su! Prendi bene! Prendi bene! Cerca di mettere il basso su per me! Passo su per me! Cerca di mettere il basso! Bravo! Prendi bene! Cerca di mezza! Prendi bene! Vai! 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 Metti i paletti bene qui! D Standardsi! Metti bene con le braccio! Metti bene con i braccio! Metti bene! Metti bene con i braccio! Non lo passare sotto il mezzo. Un minuto, Andrè, eh. Forza, dà, qualcosa, eh. Forza, lo faccio girare sulla colposta. Colpi, dai, pure. Vendilo bene, Andrè, vendilo meglio, vendilo meglio. Vendilo bene, andrè. Vendilo bene, andrè. 30 secondi, Andrè, 30 secondi. Dai, carattere, esci, dai, sei uscito, forza. Oh, metti la pancia a te. Come ha detto l'ambri, vai. Salili su, Andrè. Bravo, vai, salili su, Andrè. Dintelo sali, dintelo sali. Vendilo sali. Vai, vai. Vendilo, vai. Vendilo, vai. Vai così, Andrè, vai così. Vendilo, vai così. Tiendilo. Vai, vai. Vincere l'incontro. Andrea Capraro, Andrò Rosso. Decisione un'anno. Grazie. Girate. Qui, belli. Of 2021. meditate. 1,30. Najна. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Grazie a tutti.